regolamentazione dei rapporti della famiglia immediata e poi davanti al giudice istruttore. E già nella prima fase, diversamente da quanto accadeva anni fa, e già questo è un primo cambiamento, il Presidente solitamente già si rivolge ai servizi sociali per avere da loro un ausilio, un aiuto. Quando la situazione è così altamente conflittuale da non riuscire a trovare il bandolo della matassa, ad accertare veramente i fatti come sono, a capire se c'è un disagio da parte del minore, già in questa fase viene fatto, nelle situazioni più esacerbate ovviamente, di maggiore contrapposizione, già viene svolto questo ruolo importantissimo dei servizi sociali di raccogliere informazioni, informazioni sull'ambiente del minore, sui suoi rapporti con l'uno e con l'altro genitore, sulla sua situazione di eventuale disagio. E questa possibilità di ausilio da parte dei servizi sociali viene poi addirittura resa ancora più pregnante nel corso del giudizio, quando dalla fase presidenziale si passa alla fase davanti al giudice istruttore. Però vi rendete conto, voi stessi, voi siete dei tecnici del diritto, siete dei giuristi, come sia veramente così, già a prima vista, incompatibile un processo così come lo pensiamo noi con i suoi termini, le sue scadenze, le decadenze, le sue fasi scandite in maniera rigorosa, perché poi abbiamo anche il grande problema del tempo del processo che non possiamo noi allungare in maniera indefinita perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha bacchettato non una ma diecimila volte ogni anno lo Stato italiano è costretto a pagare per i danni dalla durata eccessiva del processo enormi quantità di danaro, quindi è una cosa alla quale noi siamo tutti tenuti a guardare, quindi vi rendete voi conto già subito di come sia incompatibile questo processo, così come strutturato con le esigenze di una famiglia, con i tempi di una famiglia, con le situazioni che si devono a volte proprio decantare, con le conflittualità che devono trovare una risposta, con i servizi sociali che intervengono per fare accertamenti e hanno bisogno di tempi perché a volte non si esaurisce nell'arco di un mese l'osservazione, anche perché essi stessi vedono, lo leggo nelle relazioni, la necessità magari di protrarre nel tempo questo tipo di accompagnamento ai genitori perché si accorgono che sostenendoli nel loro percorso alcune asperità vengono meno, si compongono e quindi chiedono loro stessi di poter proseguire in quest'opera. Un altro aspetto che forse è della maggiore difficoltà dei servizi sociali in questo momento per via del trasferimento di competenze di cui parleremo tra poco, è il principio che regola il processo civile e che difficilmente possiamo tralasciare, e cioè l'impulso di parte, il principio dispositivo, nel senso che non ci sarà mai un intervento d'ufficio del giudice, ma sempre ad iniziativa di parte, non ci può essere perché sarebbe abnorme, sarebbe fuori legge, extra legge, e quindi c'è sempre un impulso di parte. E questo, anche in questo caso, abbiamo delle difficoltà a suscitare l'intervento del giudice se non c'è un'iniziativa della parte pur trovandoci magari in situazioni che richiederebbero un intervento tempestivo a tutela del minore. Non siamo configurati, conformati, strutturati come il Tribunale per i minorenni che ha una procura della Repubblica che svolge questo tipo di iniziative e proprio per funzione, per attribuzione specifica. Ed ancora l'immutabilità, il principio di immutabilità della sentenza, nel senso che il giudizio va definito, va definito e ci deve essere un provvedimento, sentenza o ordinanza che comunque lo chiuda. Principio questo che, devo dire, per la materia familiare è stato scalfito con l'articolo 710 che voi sapete che consente la modificabilità delle condizioni o anche delle condizioni stabilite dalle parti nella separazione consensuale o le statuizioni contenute nella sentenza all'esito del giudizio di separazione contenziosa, il 710 consente di pervenire ad una modifica di quanto pattuito dai coniugi o stabilito dal giudice. E questo perché? Perché lo stesso legislatore che si è reso conto che su questa materia non si può mettere una croce per sempre e dire sarà così per l'eternità. Ci sono degli interessi per la sentenza, è immutabile, nel senso che non si possono riproporre in un altro giudizio questioni che sono coperte dal giudicato. In questo caso invece lo stesso legislatore si è reso conto che la decisione va presa allo stato degli atti e che quindi quando mutano ci sono giustificati motivi, non in maniera non fondata, senza una parvenza di buon diritto ma quando ci sono dei buoni motivi queste condizioni possono sempre essere modificate proprio perché riguardano non cose o situazioni ma rapporti interpersonali e nella stragrande maggioranza dei casi riguardano i figli e nella stragrande maggioranza dei casi riguardano dei minori. e arrivo alla legge 219, mentre nei giudizi di separazione e di divorzio anche se il divorzio è disciplinato non dal codice di procedura civile è un'altra anomalia del nostro sistema ma da una legge ad hoc e quindi c'è voluto tutto un percorso per poi interpretativo, giurisprudenziale per dire fino ad arrivare poi a una legge soltanto nell'89, il divorzio è del 70 o dell'87 per dire che le norme del processo che disciplinano la separazione si applicano anche al processo di divorzio. Quindi dicevo, mentre separazione e divorzio si svolgono attraverso questa gabbia del processo civile l'articolo 710 consente di adire il giudice quindi la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio consente di adire il giudice attraverso un processo che è il processo cosiddetto camerale cioè un processo che si svolge non si sa come perché non viene definito da nessuno infatti è in viso agli avvocati credo in particolar modo perché gridano addirittura che venga leso il loro diritto di difesa il principio del contraddittorio che è un processo che non assicura queste garanzie io lo trovo un processo invece veramente veloce finalmente un processo veloce però lo devo dire zitta perché non è political correct invece credo che quando il giudice forse è lasciato un po' troppo la discrezionalità del giudice ma quando il giudice si attiene ai due principi cardine che sono quello di consentire sempre l'esercizio del diritto di difesa e il principio del contraddittorio questo è un processo che assicura sicuramente una tempistica molto più rapida che non il processo civile i principi però devono essere questi aggiungo un altro principio che nel nostro processo civile si è completamente perso che è quello dell'oralità e quindi della concentrazione perché quando è lo stesso giudice che sente le parti capisce quali sono le istanze è in grado assolutamente di decidere sulla base della semplice discussione orale e quindi anche nell'immediatezza ma tanto è vero che questo processo è forse maggiormente rispondente all'esigenza di celerità non tanto del processo in sé ma quanto piuttosto di avere proprio dei provvedimenti immediati che possano avere ripercussione subito nella sfera degli individui che la legge 319 del 70 prevede che tutte le questioni che riguardano l'affidamento dei figli minori prima di competenza di genitori non coniugati prima di competenza del tribunale per i minorenni ora sono diventati di competenza del tribunale ordinario e le norme che disciplinano questo tipo di intervento del giudice sono quelle del 736 seguenti del codice di procedura civile che sono proprio le norme che disciplinano il procedimento camerale ecco noi posso dire l'ho già detto veramente abbiamo avuto un aumento esponenziale dei procedimenti perché accanto a quelli delle modifiche che già avevamo delle condizioni di separazione e di divorzio se ne sono aggiunti questi dei figli non di genitori non coniugati e dire che sono raddoppiati forse dire poco perché arrivati alla fine dell'anno veramente ne sono sopraggiunti tantissimi e in questo tipo di processi ecco un'altra cosa che io ho notato e l'ho notato in quest'ultimo anno proprio di esperienza lavorativa sul campo che l'ausilio dei servizi sociali è indispensabile ed è lo è ancora di più che non nei casi di figli nati nel matrimonio e mi sono chiesta perché me lo sono chiesta perché non è che cambino le persone se sono coniugate o non coniugate ma mi sono chiesta come mai si sentisse questo bisogno di avere elementi in più di conoscenza quando i genitori arrivano davanti a noi non sono più conviventi e litigano sulle modalità dell'affidamento e io penso che dipenda dal fatto un po' a parte situazioni un po' borderline nel senso di conoscenze magari neanche maturate nel tempo convivenze anche magari occasionali insomma a parte queste situazioni ma perché prima nel processo per la modifica delle condizioni di separazione c'era stato un processo e quindi tutte le situazioni che un processo una separazione consensuale un'omologa della separazione consensuale e quindi tutte le situazioni in un certo modo all'interno della famiglia erano state evidenziate erano saltate fuori erano state già esaminate dal giudice mentre invece in questi casi sono situazioni sempre oscure non perché siano le situazioni oscure ma che non emergono e noi non abbiamo altri strumenti se non quel di rivolgerci ai servizi sociali e allora voglio dire questo e poi finisco le relazioni dei servizi sociali sono sempre molto attente ora lo so magari ci sono delle situazioni in cui spesso emergono delle disparità di vedute tra legali e i servizi sociali mi rendo conto che molto è anche come sempre accade affidato alla persona quindi al modo come svolge il lavoro come adempia il suo incarico però devo dire che queste relazioni nella maggior parte dei casi sono sempre molto precise attente e c'è soprattutto la l'intenzione la la volontà da parte degli operatori di arrivare ad una ad un percorso di mediazione tentano questo percorso di mediazione certamente non lo potrebbe fare il giudice in un'audienza in due udienze con le parti davanti in una mezz'oretta di tempo è chiaro che nel momento in cui arrivano davanti al giudice hanno delle belle posizioni già contrapposte già belle definite e non non si può in una situazione che dura magari da tempo di conflittualità di di asperità eccetera in una illudersi che in una mezz'ora di vicinanza il giudice riesca a conciliarli quindi sono percorsi che richiedono molto tempo e per i quali c'è bisogno di molta cura di molta attenzione di molta pazienza ecco come conciliare questa esigenza di tempo con la nostra esigenza di tempo ma nel senso opposto che noi dobbiamo tenere presente che è quella di chiudere i procedimenti perché noi li dobbiamo chiudere non possiamo tenerli aperti e allora questo è un problema di cui bisognerebbe farsi carico e capire che non è più tempo di aspettare che ci vuole un tribunale che abbia questa specializzazione che sia tenuto a trattare questo tipo di controversie perché sempre controversie sono però attraverso un rito unico e non tanti riti quante sono le situazioni che si prospettano e attraverso io mi sentirei di dire anche perché sono stata alla sezione minorenni della Corte d'Appello e ho apprezzato sempre moltissimo il grande aiuto che proviene dai componenti non togati privati della sezione minorenni non ho mai fatto il giudice del Tribunale per i minorenni però in Corte noi avevamo la sezione specializzata nelle impugnazioni avverso i provvedimenti del Tribunale per i minorenni e la sezione è composta anche non solo dai tre giudici togati ma anche da due giudici da due componenti consiglieri non togati e il loro apporto è sempre stato grandissimo e dava conforto alle nostre decisioni e questo agire comune questo legame che si veniva a creare tra il giurista ecco il giudice esperto delle leggi o comunque con la mentalità incline a risolvere questioni giuridiche e l'esperienza che invece apportava il giudice il consigliere non togato è sempre stata straordinaria e alla fine è di grande conforto per le decisioni che venivano adottate in camera di consiglio quindi voglio concludo per dire appunto che ci troviamo in un momento di passaggio dove tutto è molto incerto dove mancano delle professionalità specifiche delle quali invece avremmo sicuramente bisogno e dove manca un percorso di mediazione assolutamente necessario per la famiglia in crisi che non può essere previsto all'interno del processo vi ringrazio ringraziamo la dottoressa dorazzi adesso al fine di evitare sorprese che anche la paola abbia cambiato il suo intervento la lasciamo libera di parlare non vorrei avere in basso no 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 anzi però mi scappa da farla avvocato e qualche osservazione mi scappa da farla non polemica no nel senso che no no insomma no nel senso che nonostante faccio solo alcune precisazioni iniziali non almeno cercherò di non parlare a titolo personale ma parlo a nome del consiglio dell'ordine cui ho l'onore di appartenere e in conseguenza anche di questo non farò una relazione tecnica per cui non so se do sollievo o gioia o tristezza dobbiate prendere appunti lo scopo del mio intervento era di voglio dire anche fisicamente dare un senso a quel lavoro che quantomeno da un paio di anni stiamo cercando di fare come consiglio dell'ordine e questo mi interessa precisare perché è importante credo all'interno del processo anche la voce dell'avvocato quindi il mio compito è quello di offrire alcuni spunti spero di riflessione per i colleghi per gli operatori dei servizi o dei centri di mediazione che magari ci piacerebbe conoscere anche meglio e con gli altri soggetti che sono seduti al mio tavolo adesso il dottor Fadiga non l'ha detto lui ha un sito molto bello se volete vedere per chi non lo conoscesse anche un simpatico indirizzo di posta elettronica perché è molto disponibile il dottor Fadiga a ricevere anche segnalazioni o a intervenire ok nel senso che è una sinergia questa a favore del minore o del processo minorile inteso in senso complessivo che voglio dire lui testimonia con impegno personale che sta portando avanti benché non sarà un intervento tecnico qualche norma vigente mi scapperà di richiamarla questo con riferimento alla legge ovviamente 219 che è stata definita la riforma epocale in materia di diritto di famiglia molto di più della legge sull'affido condiviso quasi al pari della legge di riforma di diritto di famiglia che pochi ancora di noi pochi di noi ancora conoscono ancora bene e dall'altro lato scherzava il dottor Fadiga dicendo di potestà genitoriale c'è ancora purtroppo qualche atto giudiziario dove si legge patria potestà quindi speriamo che si faccia il salto complessivo e si arrivi direttamente alle responsabilità genitoriali ma anche la legge scusate decreto legislativo questo prendetelo l'appunto 28 12 del 2013 numero 54 154 in vigore da venerdì scorso che rappresenta quel famoso decreto attuativo che tanto veniva preannunciato nella legge 219 lo menziono per chi non l'avesse ancora frequentato ho visto qualche faccia sgomenta nel senso che lo vedrete qualche monografia c'è già in commercio in attesa che si arrivi a un qualcosa di più produttivo chi non volesse guardare la legge perché è fatta con la solita tecnica normativa è abrogato sono sostituite le parole dove al terzo articolo ci siamo tendenzialmente già persi c'è una simpatico tavola sinottica su Altalex con commento di buffone non voglio fare pubblicità ad Altalex però è comodo per rinvenire lo dico semplicemente perché chi era abituato a parlare degli articoli 155 156 quater non li vede mica più cioè questo regolamento questo decreto legislativo ha completamente cancellato rimodulato con diversa sistemazione anche organica le norme che riguardano la famiglia e il processo nella parte del codice civile della famiglia quindi è importante conoscerla ci ho detto principio il mio intervento dicendo che anche se non l'ha menzionato la Daniela il titolo della mia relazione del mio intervento mi piace da morire mi piace da morire perché innanzitutto nel suo incipit genitori figli e processo visto che qua siamo di diversi tipi diversi ruoli diverse funzioni si capisce subito qual è il ruolo dell'avvocato nessuno evidentemente chi mi conosce un pochino sa che questo è un come dire un incipit un po' provocatorio ecco perché pensare che io possa dire che non conto niente mi dà un po' da fare ok ed è chiaro che questa valutazione non è un commento negativo per le frustrazioni della pratica quotidiana del processo di famiglia non è una critica ovviamente ma quando la dottoressa Dorazzi mi parla di oralità io ci sto nell'oralità perché ci si perde delle volte in atti non atti chiaro che sul concetto di oralità come dire intendiamoci discutiamo risolviamo ma non che io stia lì delle ore silenti di fianco a una parte che viene sentita oppure non che io per esempio accompagni la parte in udienza come era successo io categoria avvocatura accompagni la parte in udienza aspetti l'orario che ho fissato per l'udienza e poi manco posso entrare in aula d'udienza perché non va mica bene oppure quando si benissimo ok è importante chiarirci sulle nozioni ok così come neppure questa considerazione di dire che non contiamo niente mi viene dal come dire delle volte in prosecuzione dell'incontro che abbiamo fatto a dicembre di dire che quando per ventura mi viene voglia o mi sento anche solo in dovere di contattare un assistente sociale delle volte ho difficoltà a relazionarmi con uno dei servizi parla l'avvocato come se fosse un appestato non ho brutte malattie come dissi allora trasmissibili telefonicamente si può parlare con gli avvocati gli avvocati possono lavorare ai fini di un processo che porta alla soddisfazione degli interessi di tutti e anche al rispetto dell'interesse del minore quel dire che noi non contiamo niente vale e serve a introdurre il concetto che adesso vado a esplicitare cioè che in un processo separativo genitore partner coniugati o non coniugati separazione piuttosto che divorzio è uguale è un processo che ha delle parti diverse dagli avvocati che si svolge tra genitori figli comunque adulti che non sono degli avvocati dicono vietà no non la dico un'ovvietà non la dico un'ovvietà e qua parla il praticante consigliere che è in me perché sono ancora un giovane consigliere dell'ordine è per dirvi che voi non avete idea giusto nel momento in cui parliamo di ruoli all'interno di un processo voi non avete idea di quanti esposti vengono su al consiglio dell'ordine come dire mi viene in mente qua il nostro presidente Trevisi che quando soprattutto negli ultimi incontri di deontologia quando parla finalmente anche degli avvocati di diritto di famiglia o della materia di diritto di famiglia esordisce dicendo state calme voglio dire chi non conosce la dirittura morale e la simpatia dell'avvocato Trevisi potrebbe prendere male questa frase come se fosse una frase come dire limitata sessista prima degli anni settante come se il processo fosse seguito solo dalle donne o come se come dire le controverse familiari traessero fonte più che dal cervello da parti anatomiche inferiori ma è perché l'avvocato Trevisi dicendo questo vuole dire realmente che su abbiamo una marea di esposti per condotte diontologicamente illecite scorrette tenute da degli avvocati nei processi di diritto di famiglia avvocati che sposano il loro cliente e quindi che negli atti giudiziari cominciano a scrivere delle peggio cose nei confronti della controparte sia esso avvocato sia coniuge o partner dimenticando la ripercussione e che quegli atti scritti così scritti sono dei macini mai più rimuovibili mai più sollevabili perché poi quando ci sono delle parti in conflitto la prima cosa che fa è che uno vada a casa e faccia leggere al bambino guarda che cosa hanno scritto questo qua guarda cosa hanno detto di me lo fa vedere a parenti amici sono passi da dove non si ritorna più indietro usano dei colleghi che voglio dire per fare bella figura davanti al giudice o per ottenere provvedimenti a loro favorevoli usano con estrema tranquillità di corrispondenza riservate personale usano producendole in giudizio che usano di prove illecite o quando va bene illecitamente acquisite che usano dell'esposto disciplinare per forzare il difensore avverso io ti faccio l'esposto a vedere se te molli o cambi atteggiamento processuale o quel che peggio che usano del mezzo penale per fare delle forzature sulle parti questo per dire che se è vero che noi non siamo parti del processo di sicuro noi avvocati svolgiamo un ruolo al di là del diritto di difesa che è evidente ma fondamentale nella gestione del conflitto relazionale parlo di conflitto relazionale per non dire coniugale o comunque del momento separativo dico questo consapevole di essere nel febbraio 2014 dunque in un periodo di crisi economica mondiale e quindi anche di crisi economica dell'avvocatura in un mondo che è cambiato anche a livello di valori di un mondo dove come dire al valore dell'etica o della morale si è sostituito e si sostituisce molto spesso il valore del denaro con questo voglio dire che mi rendo conto che può sembrare come dire aria fritta che un consigliere parli di odontologia o parli di richiamo alle regole quando sono perfettamente consapevole che in questo momento storico avere un incarico professionale significa anche delle volte sbarcare il lunario e quindi a questo consegue che come dire già che è una laurea in giurisprudenza già che è un titolo d'avvocato io possa fare una separazione tanto quanto posso fare un recupero credito il titolo di studio è lo stesso chi me lo vieta ovvero che una volta che acquisito l'incarico io lo debba mantenere perché comunque ci debbo mangiare guardo la Daniela perché prima o poi mi aspetto un'espulsione dall'ordine d'ufficio è dal mio segretario ma insomma vedo fino a che punto mi posso spingere nel senso che molte volte mantenere un incarico significa anche dare ragione al cliente dove ti vuole portare tu lo sai già nel momento in cui senti cosa ti dice dove si può arrivare con un processo dove possono trovare attuazione o accoglimento i suoi diritti o le sue pretese eppure stai lì gli dai ragione o lo assecondi in azioni o in richieste che non dovrebbero essere fatti tenuto conto che per quella crisi di valori che dicevamo prima nella percezione generalmente diffusa dell'avvocato bravo è l'avvocato che è cattivo che non parla con la controparte che va e che sbacchetta questa è l'idea dello state calme a cui si riferisce il nostro presidente nel senso che pur rendendomi conto che è difficile fare l'avvocato non riesco a seguire i nostri governanti nella specie il fumonti quando come dire pensò che la nostra professione dovesse essere in tutto assimilata a una attività imprenditoriale io continuo a pensare e per fortuna anche qua il consiglio non sono l'unica che la nostra professione sia soprattutto una professione etica un richiamo ai valori e un richiamo alla responsabilità della nostra attività responsabilità voglio dire anche in comparazione tenendo conto che queste fonti e maggior ragione nella 219 ci richiama ad imperativi etici l'interesse del minore l'interesse del minore a essere curato ad avere entrambi i genitori ad avere delle relazioni importanti e significativi è un valore superiore è un valore superiore o pari ai diritti o migliore rispetto ai diritti che i nostri clienti ritengono di avere con ciò intendo dire che l'avvocato a differenza del magistrato semplifico usando forse una dizione impropria non deve svolgere la funzione pubblicistica di perseguire esclusivamente l'interesse del minore ma svolgo una funzione certamente costituzionalmente rilevante che è quella dell'esercizio del diritto di difesa ma lo faccio nei confronti di diritti e di parti che sono adulti e che sono diverse dal minore ma io le devo conciliare parti che per noi non dimentichiamolo mai sono clienti noi gli avvocati lo sappiamo gli operatori per noi sono clienti cioè io ho un rapporto di mandato sono retribuita devo non dico ottenere per forza un risultato ma io devo essere portavoce di quello che è loro diritto sono parti per noi che sono adulti vuoi che siano genitori o i genitori dei genitori nel senso che il decreto attuativo della 219 ha riconosciuto anche una legge ponendo fine a un grossissimo dibattito sì no dove chi come ha introdotto e chiarito proprio che hanno legittimazione attiva anche i nonni del minore se il loro diritto di visita alla frequentazione nei confronti del nipote è impedita con una strana schizofrenia perché con la legge 19 ha portato tutto avanti al tribunale ordinario qua l'azione sarà introdotta dei nonni sarà introdotta invece davanti al tribunale dei minori ok però su questo ci siamo chiariti ok dico che e faccio anche un'altra giusto così per cultura generale insomma l'articolo che dispone in ordine al diritto dei nonni di proporre autonomamente azione per il diritto di frequentazione ai nipoti è il nuovo 317 bis 317 bis vecchio è scomparso non è solo scomparso con lui l'articolo che è stato ricollocato altrove ma è proprio scomparso quell'incipit che molti di noi hanno cavalcato soprattutto in caso di separazione di copie non coniugate laddove si diceva che se il figlio era riconosciuto da entrambi ma risiedeva si dava rilevanza al fatto storico della risidenza anagrafica presso un genitore questo genitore ne aveva automaticamente l'affido esclusivo di tal che doveva adire il tribunale per l'altro genitore per chiedere l'affidamento condiviso qua parificando e quindi dando attuazione anche voglio dire alla razio della 219 è scomparso questo cioè tutti i genitori sono ugualmente responsabili nei confronti dei figli la risidenza lo decidono tutti e due insieme e quel residuato è stato definitivamente con buona pace della Cassazione che è definitivamente abrogato dicevo che i nostri clienti che sono adulti sono parti di un processo ma sono oltre che genitori anche individui e con questo credo che i colleghi mi comprenderanno nel momento in cui faccio riferimento evidentemente al processo separativo o divorzile di coppie coniugate laddove attualmente la pratica tribunalizia come dire ci fa constatare voglio dire in termini educati ci fa constatare che talora se rivendichi diritti in forza di norme non abrogate come può essere l'istituto dell'addebito oppure come può essere il dovere di assistenza materiale morale materiale soprattutto tra i coniugi dunque quando rivendichi un assegno come moglie ad esempio per scendere nel concreto non devi essere penalizzata non esiste che un coniuge sia non esiste a mio personale giudizio che un coniuge sia solo genitore esiste anche come individuo portatore di diritti autonomi diritti autonomi che poi devono trovare conciliazione con l'interesse del minore che menzionavo prima minore che in questo processo separativo è entrato a gamba tesa è entrato a gamba tesa nel senso che se ne parlava da sempre prima o poi ne parleremo anche noi dovendone prendere atto in questa interessante come dire cammino che abbiamo fatto con l'osservatorio provando a ragionare e sto parlando dell'ascolto del minore sto parlando dell'ascolto del minore che è entrato a gamba tesa nel senso che il decreto legislativo ha espressamente previsto in tutti i procedimenti che riguardano il minore che debba essere ascoltato e sentito quindi il suo adempimento dei principi delle convenzioni internazionali debba essere sentito tranne nei procedimenti per esempio per semplificare consensuali o congiunti quando la sua audizione è o manifestatamente superflua ovvero contraria al suo interesse diritto del minore che viene dal decreto legislativo regolamentato anche con riguardo all'aspetto della presenza degli avvocati e con riguardo anche non specificatamente ma al valore probatorio delle dichiarazioni del minore nel senso che tante volte si è interrogati dicendo ma il minore deve essere ascoltato deve essere munito di un difensore se viene cosa dice tolta anche questa sgradevole esperienza di alcuni colleghi che fanno la preventiva audizione del minore nel loro studio no? ok non scendo in dettaglio ma l'avvocato deve essere presente l'avvocato di chi deve essere presente devono essere presenti i genitori e le sue dichiarazioni devono essere verbalizzate e acquistano valore di prova e se lui dice che vuole stare con la mamma deve il giudice vincolarsi al desiderio del minore allora questi articoli qua ci chiariscono che i difensori hanno diritto di essere ammessi se il giudice l'autorizza e deve essere verbalizzato esclusivamente il contegno del minore o può essere fatta registrazione audio o visiva adesso vedremo per le solite norme senza pesi per l'amministrazione della giustizia come poter tradurre questo adesso una sala ce l'abbiamo vedremo come come lavorare anche su questa cosa e quindi tutto questo per dire che nel 2014 occorre anche in ragione di queste norme anche in ragione di questa professione che cambia occorre un forte rimpensamento dell'avvocatura e del ruolo dell'avvocatura all'interno del processo chi vi parla si unisce al coro anche se per diversa voce o per diverso oggetto che è uscito finora cioè della come dire della specializzazione come valore o come valore aggiunto rispetto la penso così io non la pensano così i nostri governanti i medici possono essere specializzati noi no ok quindi anche questa per me una chimera quindi credo che l'unico modo per lavorare se non voglio dire rimetterlo all'obbligo formativo e al desiderio spontaneo di formazione è quello ovviamente di lavorare sulla deontologia dell'avvocato cosa che questo consiglio si è ripromesso di fare sta facendo e continuerà a fare ok se questa è una professione etica e anche questo riprendo una parola che è uscita più volte oggi pomeriggio cioè quella di ascoltare perché dico questo perché penso a come l'avvocato potrebbe fare potrebbe non fare danni all'interno di un processo separativo a dicembre quando abbiamo fatto quell'altro convegno con i servizi sociali un assistente sociale un dato che io non conoscevo ha detto che loro lavorano come servizi in verità più per cercare di rimediare a situazioni con separazioni consensuali già chiuse che non in via preventiva ho detto oppla vuol dire che noi delle volte sbagliamo vuol dire che forse magari esageriamo nel credere che il valore della chiusura giudiziale della lite sia il valore da perseguire certamente quello che dobbiamo noi come avvocati che si occupano del diritto di famiglia anche se fanno dei decreti ingiuntivi è quello di approcciarsi a una relazione familiare senza giudicare le relazioni capire e qua viene in gioco la locandina di questo convegno la famiglia e le relazioni che queste persone rappresentano qual è il tipo di famiglia che loro vogliono avere sono tanti i modi di fare famiglia c'è chi si sposa c'è chi convive c'è chi vive con uno e che ha un'altra moglie fanno dei figli è un mondo che è completamente cambiato e non si può ragionare per standard per modello di separazione che ho nel programma gestionale dello studio occorre capire dove queste persone vogliono andare adattare la chiusura negoziale dell'accordo separativo in relazione all'assetto separativo che viene a realizzarsi dopo la conciliazione giudiziale se a questo punto il nostro ruolo diventa a parere del consiglio come dire l'avvocato di famiglia bravo non è quello che vince le giudiziali è quello che riesce a chiudere le consensuali faccio questa premessa per dire che come dire se anche il nostro ruolo deve essere rimodulato verso un'ottica conciliativa dico che chi meglio di noi lo può capire gli interventi recenti del decreto del 28 modifica del 28 del 2010 hanno riconosciuto gli avvocati come mediatori di diritto addirittura noi abbiamo un bonus come dire di compenso tabellare se chiudiamo una controversia diciamo che però non tutti siamo capaci di fare questo di chiudere una controversia uno strumento importante è certamente ed è questo perché l'abbiamo fatto oggi quello della mediazione mediazione familiare cui anche il decreto legislativo dà una grossa rilevanza e importanza tant'è che viene espressamente chiarito che il presidente o il giudice istruttore prima dell'adozione di provvedimenti con il consenso delle parti e avuto il loro consenso può rinviare l'adozione di provvedimenti sulla famiglia all'esito della sperimentazione di un percorso di mediazione allora di mediazione ce ne sono di tanti tipi tante forme noi abbiamo scelto di lavorare con il centro per le famiglie di sicuro però credo che a tutti noi avvocati come dire sia capitato di vedere finora come nel processo di famiglia è attuata la mediazione quindi per semplicità dico che la mediazione secondo me nel processo separativo ha un senso se è spontanea e se è voluta nel senso che quelle mediazioni che vengono delegate dal giudice cioè andate voi a litigare secondo me non portano nessun o portano a pochi risultati se non la paura se non risultati conciliativi sul timore che poi la sentenza che ne viene fuori se non ti concili sia peggio di quello che ti può capitare se ti accordi dunque quegli accordi su cui poi forse gli assistenti sociali vanno a lavorare oppure quelle mediazioni alle quali facciamo approcciare i clienti con la riserva mentale che se ci sono andata faccio bella figura dal giudice perché sono io quella che è andata in mediazione e mi sono dichiarata disponibile oppure perché dopo io ci vado sempre non ci credo però dopo così io posso dire in processo che io avrei proseguito nel percorso di mediazione ma è stato l'altro che non ha raggiunto l'accordo perché l'ha interrotta oppure ancora li mando in mediazione perché ho la speranza vana perché non esiste minimamente che poi il mediatore venga in giudizio a riferire delle cose che poi sono accadute in mediazione tutto questo è sbagliato la mediazione è uno strumento ottimo se attuata come dire come si deve con questo intendo anche fare un passettino in più l'ho fatto a dicembre lo faccio anche adesso la sperimentazione delle copie che sono andate in mediazione ci porta a dire che abbiamo due problemi oggettivi proprio concreti quello di come dire avere delle persone che si accostano alla mediazione ma hanno paura di dire dei sì perché poi devono sempre sentire l'avvocato perché se gli conviene o non gli conviene oppure delle mediazioni parziali chiuse come in verità direbbe anche questa nuova formulazione del decreto solo su taluni aspetti del conflitto separativo dunque per esempio solo sulla questione frequentazione figli affidamento e lasciato aperto tutto il resto e quindi quando vengono in studio da noi cosa succede gli vai a dire ma scusi signore avete detto che vi frequentate una settimana una settimana l'altro avete dei redditi analoghi e assegni di mantenimento come tribunale permettendo assegni di mantenimento come si fa a pensare ipotizzare che ce ne possano essere e allora a quel momento lì uno che non è adeguatamente informato revoca il suo consenso oppure scatta il conflitto su altre controversie su altre questioni non trattate non trattate neanche in sedia di mediazione parziale quindi butto l'amo e dico perché così come con gli assistenti sociali non proviamo anche a coinvolgere l'avvocato nella mediazione e voglio essere chiara qualche tempo fa per conto del consiglio io sono andata a un corso di formazione del consiglio superiore della magistratura e lì si parlava di mediazione e consulenza tecnica e c'era un consulente tecnico che disse che gli avvocati devono andare in consulenza questo specificando non a fini collaborativi ma perché meritavano di essere anche loro periziati ecco allora io non voglio arrivare a questo estremo voglio dire che quando dico che se partecipa alla mediazione è perché magari possiamo arrivare più celermente a un accordo possiamo mettere in discussione nella segretezza della mediazione anche tanti aspetti che magari non potranno mai essere decisi nel giudizio di separazione perché ultrone rispetto al potere di intervento del giudice e così definitivamente magari chiudere tutto il conflitto conflitto che comunque può essere chiuso dalla decisione giudiziale e anche questa per me che faccio l'avvocato non è una brutta cosa anzi mi viene da dire che ci sono certe famiglie o certe relazioni che hanno bisogno di una decisione giudiziale per dirimere il conflitto ma anche per imparare a costruire a condizioni diverse su un deciso però che deve essere celere qua mi riallaccio al forse incipit della dottoressa Dorazzi e mi viene in mente l'unica come dire differenza tra figli che la 219 ha lasciato nel senso che è una differenza sotto il profilo processuale nel senso che i figli di coppie coniugate hanno un rito i figli di coppie non coniugate hanno un altro rito cioè se io vado come dire questo lo dico evidentemente non a vantaggio dei colleghi se io devo separare una coppia coniugata ho un'udienza presidenziale celere provvedimenti immediati e un processo che poi prosegue con le regole del contraddittorio avanti un altro giudice istruttore forse a tempi biblici ma comunque io ho una situazione già regolamentata e ho delle garanzie processuali forse tante perché magari è sovrabbondante il rito contenzioso ordinario per un processo come questo nel processo invece di coppie non coniugate ho il rito camerale che è vero non si sa come si fa perché è privo di forme ok all'oralità all'accelerità nei limiti in cui i tempi e il carico di lavoro del tribunale consente di fare perché ha perfettamente ragione la dottoressa Dorazzi cioè questo è un procedimento molto bello molto snello senza forme però avrebbe un senso se l'udienza fosse poi fissata in tempi veloci e poi se come dire la decisione fosse altrettanto veloce ma qua non abbiamo l'avremmo ne parleremo forse la possibilità di provvedimenti interinali occorre fare un minimo di istruzione quelle relazioni dei servizi che diceva prima la dottoressa Dorazzi e poi si deciderà ma nel frattempo passano i mesi come sono solita dire nei mesi che passano uso lo stereotipo i papà non vedono i bambini le mamme non vedono i soldi ma detto questo io sono d'accordo e poi e poi non vedono i soldi